Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento è l'arbitro designato per la sfida di domenica tra Pisa e Viterbese, classe 1987, 30 anni compiuti nel luglio scorso e al terzo anno nei ruoli Candi Serie C dove nella stagione attuale ha diretto una sfida, la sconfitta interna all'esordio della Reggiana contro la Feralpi Salò. Nel complesso sono 25 le partite di campionato dirette, tutte in terza serie. Le statistiche mostrano un arbitro non certo casalingo, appena 8 le vittorie dei padroni di casa, altrettante le gare finite in parità e 9 i successi degli ospiti. In pratica nel 68% dei casi la formazione che giocava sul proprio terreno non ha vinto, 11 cartellini rossi estratti, 11 i rigori concessi, designazione del tutto inedita sia per il Pisa che per la Viterbese, quella di Pasciuta che per la sfida dell'arena sarà coadiuvato dagli assistenti Margheritino e Fantino.